La Regione Toscana ha stanziato 375 milioni di euro per il 2024 per finanziare i servizi destinati a persone anziane non autosufficienti e con disabilità. Le risorse saranno destinate in gran parte a sostenere la domiciliarità e l'autonomia e a consentire il mantenimento degli ultra 65 anni non autosufficienti nelle RSA e nei centri diurni. Le risorse di questo piano approvato dalla Giunta regionale verranno assegnate alle società della salute o alle zone di stretto. Per quanto riguarda il fondo per la non autosufficienza sono stati stanziati 58 milioni che verranno utilizzati per interventi domiciliari, sociali e sociosanitari per la vita indipendente, inserimenti in centri diurni, interventi temporanei o di sollievo nelle RSA. 13 milioni di euro verranno invece utilizzati per il sostegno alla domiciliarità e all'autonomia delle persone con disabilità, tra cui l'assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio e gli interventi per favorire l'accessibilità e la mobilità. 219 milioni di euro saranno usati a copertura delle quote sanitarie per l'inserimento di persone anziane non autosufficienti in RSA e centri diurni. Il budget previsto è in questo caso maggiore di 7 milioni di euro rispetto a un anno fa per l'aumento della quota regionale pro capite a carico della regione destinata alle rette delle residenze sanitarie. Oltre 85 milioni, erano 81 nel 2023, sono destinati alle persone con disabilità per garantire loro interventi domiciliari sanitari, inserimenti in centri diurni, interventi nelle residenze sanitarie per disabili.